Il PD regionale, con i consiglieri Pietrucci, Di Marco e Paolucci, il segretario Marinelli e il senatore Michele Fine, è tornato sull'elezione del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il responsabile degli enti locali per Fratelli d'Italia, alla guida del Lanci Abruzzo. Una forzatura, così l'hanno definita, in un clima molto pesante, nel quale Lanci per loro è stato distrutto dal centrodestra, diventando uno strumento nelle mani del governo e non a tutela dei sindaci. Per la prima volta hanno detto non si elegge un presidente unitario, cosa che accadrà anche a livello nazionale. Fanno discutere poi anche le dichiarazioni di Biondi sui tagli agli enti locali, perché hanno ribadito e lui difende il governo. Il responsabile nazionale enti locali di Fratelli d'Italia, Pierluigi Biondi, la prima cosa che ha dichiarato dopo il congresso del Lanci è che in questa legge di bilancio nazionale tutto sommato il nostro comparto, quello degli enti locali, è meno colpito che negli anni passati. Attenzione, non è colpito, ma comunque è stato più colpito anche in passato e quindi naturalmente questi tagli si sommano. Intanto di cosa parliamo? Nella legge di bilancio è previsto un miliardo e mezzo di tagli per gli enti locali nel prossimo triennio e già un miliardo è stato tagliato nella scorsa legge finanziaria. Quindi per i comuni, per le amministrazioni comunali, significa tagliare i servizi essenziali a partire da quelli che servono nella vita concreta dei cittadini. Quindi il neopresidente del Lanci, invece che esprimere anche una garbata critica istituzionale rispetto alle esigenze dei comuni, difende il governo. È stato ucciso Lanciabruzzo. Per la prima volta nella storia del Lanci non si elegge insieme il presidente nella storia del Lanciabruzzo. Un clima pesante insomma hanno rilanciato i DEM che hanno voluto ringraziare anche il sindaco di Vasto e il presidente della provincia di Chieti Francesco Menna che si è messo a disposizione pur sapendo che sarebbe stata una partita persa così come hanno ringraziato i sindaci che non si sono allineati.